Sapete qual è la difficoltà di fare un video per Killjoy senza gigaflammare il personaggio? Ci ho messo un po' a farlo uscire e molti diranno Lapa ormai è tardi per far uscire un video che spiega questo personaggio Il punto è che è così mostruosamente situazionale come personaggio Che è veramente difficile da pensare in maniera convincente come puoi usarlo Allora, mi spiego meglio Il kit di per sé è anche molto figo Non c'è una spell che dice, vabbè, è proprio una schifezza Ogni spell è ok È ok Non è incredibile Perché ci sono così tanti modi per giocarci attorno ad ognuna di esse Che non è difficile gestirla Non è per nulla difficile Anzi, tutto al contrario Partiamo proprio una alla volta? Allora, partiamo così Dal nano swarm Che questo qua è probabilmente quella che tutti hanno sempre visto Uno lancia questa granata C'è questa granata che è invisibile Si sente il suono Quindi se ti avvicini lentamente Tu puoi effettivamente vederla e sentirla E sparargli se sei un avversario Purtroppo non posso switchare side Quindi è un po' un peccato Ma il senso è questo Una persona che si avvicina Comincia a sentire lentamente il suono E poi comincia a vedere effettivamente la granata Quindi può sparargli direttamente E distruggerla C'è un problema Facciamo l'esempio Molti pensano a uno dei modi più efficaci per utilizzarla Ad esempio Quando tu sei in difesa e loro attaccano Cosa fai? La piazzi qua Oppure sei in attacco Piazzi la bomba qua E piazzi subito questo sotto Il punto è questo Puoi distruggerlo Puoi semplicemente controllare Ti avvicini così Spari alla granata Dici bene perfetto Posso andare a disinnescare senza problemi Che come funziona la granata Per chi non l'ha mai vista Tu la piazzi È invisibile agli avversari E poi fa questo danno All'interno di quest'area È molto potente come danno Viene ridotto il danno Nei confronti del personaggio Che la lancia Del proprio team Ovviamente per evitare che Che sia troppo pesante Ovviamente puoi prendere due granate per round Costano 200 l'uno E nei momenti in cui sono piazzate Non puoi recuperarle Ci sono alcuni setup Che puoi andare a fare Che sono abbastanza carini Con questa granata Dalla distanza Ad esempio Sai che poi Che le persone possono piccare Da questo punto della mappa Di B-Site Puoi lanciare una granata Da quella distanza La fai atterrare qua La attivi E li danneggi già pesantemente Poi dipende ovviamente Perché non sempre una persona Sta qua a piccare Potrebbe stare in questo Potrebbe stare in questo angolo Eccetera 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 Per ogni mappa ce ne sono di diversi Quindi non mi soffermerò molto su questo Poi passiamo alla seconda abilità Questa è un'altra abilità Che si deve acquistare Costa 200 gold Tu piazzi questa torretta Che semplicemente Nel momento in cui Vede un avversario All'interno di quell'area Cosa succede? Prende Lo insegue Non lo danneggia Perché non fa effettivamente male Ma gli va a applicare un debuff Che è la vulnerabilità E la fragilità E puoi fare Fai il doppio del danno Nei confronti quella persona Il senso è questo È che Nel esempio Tu lo piazzi qua Qua dietro al muro Nel momento in cui Passa qualcuno Nel momento in cui Passa qualcuno Viene attirato E dice Ehi Gli corre in faccia Esplode E via C'è un problema Anche questo può essere Facilmente distrutto A 125 HP Quindi distruggerlo E letteralmente Due proiettili Tre proiettili al massimo Cioè non è niente di veramente esagerato No tre no Perché il Phantom fa Sono quattro proiettili Un, due, tre, quattro Cioè capite la velocità con cui puoi distruggerlo È veramente veramente facile a gestire Anche questo E lo scopo di questa umidità È per tenere Per tenere certe zone sotto controllo Senza doverti effettivamente esporre Quindi un esempio cosa fai Qua di solito c'è la barriera Tu vai Nel momento in cui La barriera Si è attivata Tu applichi Piazzi lì il bot E puoi andartene tranquillamente Perché sai che c'è il bot A controllare E appena senti che il bot Si muove Sulla minimappa diventa gialla Liconcina del bot Che si muove E quindi puoi spostarti Direttamente a controllare A questo modo Oppure puoi droppare di sotto Oppure puoi metterti In un angolo diverso Cioè il modo in cui puoi Giocarci attorno È sensato Ma l'unica cosa qui serve È per dare informazioni È molto molto raro Che tu utilizzerai Il buff della vulnerabilità Per andare a uccidere Un avversario Non male anche questa Come abilità Allora Questo è importante Se volete richiamarlo Voi potete effettivamente farlo Lo richiamate indietro E abbi Allora Lo piazzo Se io lo richiamo indietro Dopo 20 secondi Mi torna indietro l'abilità Se finisce il round O se muori Prima di quei 20 secondi Devi ricomprare il bot Questo è molto importante Soprattutto quando state Per vincere un round Cosa fate? Richiamate il bot Un pochino prima A questo modo Sapete al 100% Che il bot Vi torna indietro E che potete andare A riutilizzarlo E poi abbiamo quella che È l'abilità chiave Di questo personaggio Che è la torretta Che molti erano Oh mio dio La torretta No Come XYZ Gioco E ci sono veramente infiniti Ed è la torretta Più mediocre Che sia mai esistita Nel mondo dei videogiochi Non ironicamente È patetica Questa torretta Ok Controlla un cono È di 180 gradi Quindi fichissimo Puoi metterlo sopra Certe barriere Quindi puoi controllare Anche senza doverti esporti Questo è molto comodo Questo è effettivamente Uno dei principali utilizzi Cosa fai? Tu prendi Tu piazzi Il bot In una specifica posizione Ad esempio qua Così che se qualcuno Si espone Ad esempio qua da garage Per fare l'esempio Hai l'informazione Ripeto Anche questo qua A 150 HP Quindi Perfetto Distrutto in 4-5 colpi Quindi Non proprio il massimo Ma Vabbè Non è neanche la cosa più grave Perché dice Ok Puoi utilizzarlo per coprire il flank Puoi utilizzarlo per evitare Che gli Che ti Che ti arrivino alle spalle Fantastico Già questo è ottimo Ma Sapete qua Allora Fa una raffica di 3 colpi Ogni secondo Cioè ci mette un secondo A ricaricare Prima di poter ripartire Fa la raffica Aspetti un secondo Fa la raffica Aspetti un secondo La raffica di 3 colpi A questa distanza Fa 8 danni per colpo A questa distanza Fa 6 danni per colpo A questa distanza Fa 4 danni per colpo Quindi potete immaginarvi Quanto Poco utile Sia a livello di DPS È letteralmente Una distrazione Basta Perché il focus Di Killjoy Non è di uccidere Con le sue abilità Lei cosa fa? Crea delle distrazioni Crea delle distrazioni In modi diversi Ad esempio C'è la torreta qua C'è la torreta C'è il robottino lì Nel momento In cui si espone Una persona Quando arriva Da garage Quando arriva Da lì Cosa Cosa fai? Semplicemente Tu puoi cominciare A prestare attenzione Per questo lato Puoi rimanere Anche coperto A questo modo Perché c'è il robottino Lì Nel momento in cui Una persona Tira fuori la testa Il robottino esce fuori La persona sarà distratta Dal sparare al robottino E tu puoi sparargli Fantastico Dici Ah Opprimente Non puoi farci un cazzo Contro Zero counterplay Benissimo Due persone Piccano insieme Uno guarda un lato E uno guarda l'altro C'è Questo personaggio Sta letteralmente Insegnando Alle persone Come giocare Correttamente Un push Perché Controlli un lato Uno E uno controlla L'altro Tu tiri fuori la testa Stonk Tu tiri fuori la testa lì Stonk Perché sei già una persona Che sta guardando Cioè La difficoltà Non di killjoy Ma in generale Di giocare contro killjoy È di sapere Che devi pushare in due Fine Nel momento in cui Pushi con due persone È estremamente gestibile Non è complicato Per quanto tu possa Magari anche creare Facciamo un esempio Tu senti che il robottino Mi hai attivato Lo attivi Attivi a questo modo La granata Così che gli vai Li vai a zonare E prendi tempo Per far arrivare il tuo team Anche quello Assolutamente fattibile Il discorso è sempre che Una volta che una persona Entrata all'interno All'interno dell'area Poi È difficile Riconquistarla Non è come Cypher Che può combattere Attorno alle sue cose Può combattere Attorno alle sue fumogene Può combattere Attorno ai suoi cavi Che o Cypher nel tempo Si è imparato E si è capito bene Come gestire Cypher Ma devi investire Tante risorse E contro Cypher Oltretutto La cosa Importante È che tu puoi rompere Le trappole Senza dare Troppe informazioni Oppure puoi scegliere di non ingaggiare In maniera da Semplicemente Vedi le corde Tiri tiri E te ne vai via Senza regalare informazioni Ma nel momento in cui Io tiro fuori la testa Il bot si attiva Immediatamente Quindi la parte forte La parte forte di Killjoy È che ottieni informazioni Più facilmente Quando si espongono Gli avversari La parte negativa Di Killjoy È che È così facile Pushare su un site Di Killjoy Che non Non ti ritrovi Comodo A difendere È Ironicamente più forte A evitare di essere Flancati Quando sei in attacco Perché da un lato Facciamo un esempio Su Haven Su Haven Hai la mappa Tre site Vuoi pushare ad esempio B ma vuoi passare Da Double Door E da Mid Perfetto Fantastico È un esempio a caso Tu cosa fai? Piazzi una torretta su C Piazzi il robottino su A In questo modo Hai i due flank I due flank coperti E nel caso qualcuno Provi a pushare Vieni punito Perché regali informazioni Fin qui Tutto a posto Ma Non lo so È un personaggio che È molto più facile A gestire Di quello che Di quello che sembra Sincero Non mi sembra Così sbroccato Allo stesso tempo Capisco Come sia In un setting competitivo Possa essere frustrante O fastidioso Perché giocare contro i lei Vuol dire regalare Un sacco di informazioni Per la solo Q Basta Quel grammo Di organizzazione In più Magari sei con un duo E la push insieme E a meno che Non siate due Completi incapaci Non vi ucciderà mai Entrambi Farai un 3D alla pari E hai disabilitato Tutta la sua utilità Perché una volta uccisa Lei non può attivare Le trappole E i robottini Sì funzionano Ma non ricevi Una notifica sonora Quando qualcuno attacca Quindi devi stare attento Alla minimappa E di conseguenza Può essere persa Come informazione Non lo so È ok Poi anche la Suprema La Suprema che cosa fa? Vedete che sulla minimappa Si crea questo cerchio Azzurro Che indica la zona Dove va a colpire Questa Suprema Fantastico Ad esempio Io la piazzo qua Tutte le persone All'inter Tutte le persone All'interno In questa zona Sono all'interno Dell'area di lockdown Tu puoi uscire Dall'area di lockdown Semplicemente E non subisci Nessun effetto negativo Cosa succede Come effetto negativo? Tutte le persone All'interno Per 8 secondi Le persone Cioè i nemici Vengono Detained Non possono usare abilità Non possono usare armi E vengono rallentate Dell'80% Molto comodo Soprattutto per pushare Ancora una volta Perché tu cosa fai? Ad esempio Puoi piazzarlo così Lo piazzi a questo modo La Suprema Così che gli unici punti In cui possono stare È qua E qua Perché se rimangono In questa zona Negli ultimi secondi Poi tu puoi andare A pusharli E ucciderli E questa è la potenza Cioè Killjoin Ironicamente È un personaggio Da controllo Che funziona meglio Funziona più volte In attacco Piuttosto che In difesa Perché in difesa Una volta che vedi Come piazza le torrette Sì può cambiare la posizione Può cambiare il modo In cui gestisce Le trappole E quant'altro Ma Arriverà un punto In cui L'esperienza Contro Killjoy Distrugge Killjoy Perché Ormai sai Dove può andare A piazzare la torretta Non ci sono Punti non hobby In cui piazzare la torretta Certo Può essere fastidioso Ma stai comunque Utilizzando Un personaggio Che Regala informazioni Al tuo team Quando usato correttamente Ma poi deve essere Il team davvero bravo A usarle Perché poi Se non sfrutti Quelle informazioni È come non avere Un personaggio Perché hai soltanto La C Come abilità Vere e propria Come Un'abilità Offensiva Tra virgolette Cioè per dire Anche il muro Di Sage Anche Le trappole Di Cypher Le cage Cyber cage Di Cypher Hanno un utilizzo Difensivo E offensivo Semplice Da Da gestire Ma difficile Sempre da prevedere Perché un muro Di Sage Può arrivarti Quando vuoi Come vuoi Con angoli diversi I cavi di Cypher Possono essere piazzati In modi più creativi Possono essere piazzati In modi diversi In modo che ti creano problemi Durante il push Non c'è un'esperienza unica Perché magari Un Cypher Ti piazza una trappola alta Un'altra te la piazza più bassa Un'altra te la piazza più All'interno del site Mentre Per Killjoy Nel momento in cui Tu piazzi diversamente Non è male Ma non ti sta regalando L'utilità che ti porta Ad esempio un Cypher Un Cypher Se prende un cavo Rallenta una persona E ottiene informazioni Lo vedono tutti quanti Sulla mappa Mentre invece Killjoy No Non rivela niente L'unica informazione C'è la Killjoy E deve dirla a tutti quanti Che questo È comunque Non dico un problema Ma può essere qualcosa Di molto limitante È un personaggio Molto carino Ma non mi sembra Per niente OP Cioè In setting competitivi Sarà frustrante Più che OP Perché Per quanto Per quanto Possa essere Noiosa da gestire E parliamoci chiaro È molto più noiosa Di Cypher Perché Questo E questo Cioè la torretta E la Q Sono troppo comodi Quando sei in competitivo Per ottenere informazioni Le informazioni sono oro In competitivo In solo Q Un po' meno E di conseguenza Ti ritrovi A A vedere In un certo senso I limiti Questo personaggio Quando Capisci davvero Che cosa è in grado Di fare A livello competitivo E poi Vedi il contrasto Con l'esperienza In solo Q Non lo so È Non è forte Secondo me Non è debole Ma non è neanche OP Non è per niente debole Sia ben chiaro Questo non voglio far passare Come un Ah è fa schifo È debolissimo No 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 Tutto il contrario Perché può essere molto forte Ma Più verrà giocata E più ci si giocherà contro E più sarà facile A gestire Tutto qua Ma non nel senso di Stai impari a giocare Contro il personaggio E fine Cioè Ci saranno sempre meno Trucchetti Tra virgolette Che funzionano Per Killjoy E di conseguenza Sarà sempre più facile Andare a gestirla Cioè Arriverà un punto In cui Killjoy La gente la locka I rack E dice Oh no Perché hai lockato Killjoy Perché non ti darà L'utilità di altri personaggi Non ti darà Le fumogene Fumogene Di Cypher La suprema di Cypher È È limitata Tutto qua Allora Allora Grazie.